Vabbè, come la fate voi la differenziata a Roma? La plastica con le lattine. Con le lattine, sì. Ah, ok, ok, no, perché noi invece la dividiamo. Quindi la plastica dov'è? La plastica è qua. Ok, la plastica è qua. La carta devi togliere il sacchetto di plastica. Ah, beh, la carta devo togliere il sacchetto di plastica. La carta è qua. La carta è qua. Ok. E il sacchetto poi lo metti nella plastica. Il sacchetto lo metto nella plastica. Senti, l'umido gli hai tolto i tovagliolini, gli hai messo i tovagliolini di carta? Sì, 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 anche noi gli mettiamo i tovagliolini di carta. Allora, l'umido lo metti. L'umido lo mettiamo qua. Ok, perfetto. No, 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 ma no, non è indifferenziata questo. Questo qui devi tagliare qua, qua con la plastica e sotto con la carta. Ce l'hai coltello? Eh no, non ce l'ho. Chiamo a casa a prendere il coltello. No, ce ne ho uno in macchina. Eh, dai, dai. Eh, dai, dai.